Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi delle nuove serie manga che sto attualmente seguendo. Infatti era un po' di tempo che non facevo un video dedicato ai nuovi manga appena usciti, quindi al lo continuo, vale la pena... E quindi siccome poi ho deciso di continuare queste varie serie, mi son detta facciamo un aggiornamento di questo tipo. Prima di cominciare vi ricordo come sempre che se volete sostenere il canale potete farlo iscrivendovi, abbonandovi, mettendo mi piace a questo video e commentando qua sotto. Potete anche offrire una simbolica tazza di tè attraverso Ko-fi, il link è qua sotto in descrizione. Così come sempre qua sotto in descrizione trovate i miei codici sconto da affiliate e i miei link da affiliata attraverso cui potete acquistare quello che più volete e una percentuale andrà a sostenermi, quindi grazie davvero di cuore. Direi di iniziare con due serie che ho deciso di riprendere nell'ultimo periodo perché alcune serie che stavo seguendo sono terminate, quindi ci son detta, ma sì, continuiamo un po' con queste altre storie. Il primo manga di cui vi parlo è Hanako-kun, i sette misteri dell'accademia Kamome di Aida Hiro. Edito J-pop al prezzo di 5,90€, credo siano usciti 10-11 volumi per il momento, è una serie ancora in corso. Io ho letto soltanto i primi due, ma in realtà ho già i primi quattro volumi qua a casa. E la storia si concentra su una scuola, in particolare su una sorta di superstizione e diceria. E qui seguiamo in particolare una ragazza che crede l'occulto, è molto incuriosita da questo aspetto e decide di recarsi dallo spirito del gabinetto perché sta vivendo un amore, diciamo, impossibile, molto probabilmente a senso unico. E si dice che questo spirito del gabinetto sia in grado invece di realizzare i desideri. La nostra protagonista viene quindi a contatto con il mondo sovrannaturale, da cui sarà molto difficile poi allontanarsi. È una storia molto carina, simpatica, d'azione, di intrattenimento, che ha a che fare appunto con un po' di spiriti e leggende legate appunto a questa scuola dove è ambientato il fumetto. Primo volume mi era piaciuto ma nulla di che, diciamo così, leggendo però recensioni di gente che aveva continuato a leggere il fumetto mi sono sempre più incuriosita perché molti mi hanno detto andando avanti migliora sempre di più e quindi mi sono detta diamogli una seconda possibilità. Altro fumetto che ho deciso di riprendere è Casane, di Daruma Matsuora, sempre edito J-pop a prezzo di 6,90€. Di questo non ricordo quanti volumi siano stati pubblicati, la serie se non sbaglio si è concluse, io per il momento ne ho tre. Il primo volume mi aveva incuriosita per tanti aspetti ma c'erano tante serie che stavo seguendo e a cui, diciamo, volevo dare priorità. Sono contenta però di continuarlo perché, come vi dicevo, già il primo volume mi aveva incuriosita parecchio soprattutto per il lato psicologico della storia. La protagonista è una bambina non particolarmente carina, ha infatti il viso sfigurato e viene sempre un po' presa in giro da tutte le altre persone che la circondano. A differenza di questa ragazza, la madre era bellissima e da lei ha ereditato un particolare rossetto che le permetterà di assumere il volto di qualsiasi persona. Come si suol dire però, da grandi poteri derivano grandi responsabilità e quindi noi la seguiamo pian piano crescere e rapportarsi con questo potere con quelle che sono anche le conseguenze non soltanto fisiche ma soprattutto psicologiche. Non si parla solo di bellezza ma di tante altre cose che riguardano comunque la sfera personale e l'essere umano e proprio per questo mi aveva intrigata parecchio. Poi il character design è veramente molto particolare e affascinante. Altro fumetto che ho intenzione di continuare è i Kokuniki di Yamashita Tomoko. Edito flashbook al prezzo di 5,90€. Nel momento in cui sto filmando questo video è uscito soltanto il primo volume ma se non sbaglio fra la fine di settembre e ottobre dovrebbe uscire il secondo. È una serie ancora in corso, in Giappone ne sono usciti per adesso 7 ed è una storia quotidiana. La protagonista a 15 anni ha perso entrambi i genitori e viene affidata alla zia che però ha un animo molto introverso, non è abituata a vivere con altre persone, è veramente molto chiusa. In più non andava per niente d'accordo con la madre di questa ragazza, ovvero sua sorella. Quindi inizialmente c'è un po' di tensione e le due dovranno imparare a conoscersi e a convivere e venirsi incontro. È una storia, come vi dicevo, quotidiana in cui si parla anche però dell'elaborazione del lutto. Quindi di come vivono queste due persone molto diverse, anche perché una è adolescente e l'altra è adulta, la perdita di un familiare. L'ho trovato molto interessante nella sua semplicità, nel suo vivere la vita quotidiana e anche per la differenza tra i due personaggi principali che hanno appunto non solo caratteri molto diversi ma anche vite differenti. Molto molto curiosa di continuarlo quindi. Da poco è uscito il secondo volume di Beyond the Clouds di Nick, che è sempre edito J-Pop al prezzo di 6,50€. È una serie in corso, per adesso credo ci siano 3 o 4 volumi, quindi vedremo quanto dovremo attendere poi per i seguiti. E si tratta di un manga decisamente fantastico. Il protagonista è un giovane meccanico che un giorno si imbatte in una bambina alata che ha perso la memoria e ha perso anche una delle sue ali. Per questo decide di portarla con sé, fungere un po' da fratello maggiore visto che nemmeno lui ha una famiglia e lei si ritrova da sola e si offre di ripararle l'ala, o meglio di costruirle l'ala mancante. Questo porterà i due in un viaggio fantastico che inizia proprio con il secondo volume. Il primo è abbastanza introduttivo, ho letto da alcune recensioni che alcuni hanno trovato la prima parte un po' troppo lenta. Io personalmente l'ho apprezzato perché in questo modo c'è tutto il tempo di conoscere pian piano i due protagonisti della storia. Fra i due c'è proprio un legame molto tenero e fraterno. È una storia che mischia un po' di fantasy, un po' di steampunk. Non so per quale motivo a volte mi ha ricordato vagamente la Traversa Specchi, però si rifà forse di più al mondo Ghibli, se vi sono piaciuti i videogiochi tipo Final Fantasy. Insomma, molto interessante. Poi, io vi ho raccontato un aspetto, diciamo, carino e coccoloso, ma già nel primo volume iniziano le prime difficoltà perché infatti le bambine alate, anche nel mondo fantastico del nostro protagonista, intanto Taki, è sullo stendino. Scusate, mi sto lasciando distrarre da Taki sullo stendino che non sa dove arrampicarsi, vabbè. Dicevo che anche nel mondo fantastico di questo meccanico le bambine alate sono piuttosto rare e quindi ci sono dei malintenzionati che vorranno approfittarsene. Non vedo l'ora che esca il terzo volume, il primo e il secondo mi sono piaciuti tanto. Così come non vedo l'ora che esca il quarto volume di Shadows House di Somato. Di questo credo ormai di avervi fatto una testa tanta fra Instagram e TikTok. Un'altra serie J-pop edita al prezzo di 6,50€, altra serie in corso. Dello stesso autore ho letto anche Kuro, una miniserie di tre volumi, mi era piaciuta tantissimo. E devo dire che il primo volume di Shadows House mi era piaciuto ma non mi aveva fatto proprio innamorare. Il secondo volume già mi aveva intrigata molto di più. Qui ci troviamo presso una famiglia facoltosa molto nobile e cui i membri sono molto misteriosi perché in realtà sono come delle ombre nere, non hanno un vero proprio volto. Per questo assumono delle bambole viventi, delle domestiche diciamo così, che devono fungere appunto da loro volto. Quindi devono essere in grado di far trasparire le loro emozioni, le loro varie intenzioni, senza poter vedere effettivamente che cosa il loro padrone voglia comunicare. Quindi devono essere bravissimi a conoscere appunto la persona che stanno osservendo e interpretare i suoi stati d'animo. Nel primo volume vediamo in particolare una nobile e la sua bambola vivente conoscersi e iniziare appunto questa convivenza. Da secondo volume entrano in gioco altri personaggi, altri componenti della famiglia, c'è anche il debut in società. E' tutto inserito in questo quadro nobile, un po' sfarzoso, dalle tinte anche un po' cupe e gotiche perché non solo metà dei protagonisti sono appunto come delle ombre nere, ma nascondono una sorta anche di potere. E' una storia abbastanza misteriosa, un po' forse criptica, il design è meraviglioso, a me piacciono moltissimo questi disegni e le bambole viventi sembrano delle vere e proprie bambole. E insomma io sono rapita, non vedo l'ora di continuare. Tanto Taki è tornato di nuovo sullo stendino, non vuole capire che lo deve lasciare stare. Ultimo fumetto per oggi, serie fresca fresca di questi giorni, ma io non vedo l'ora che esca il secondo perché il primo finisce proprio con un colpo di scena che ti lascia wow ed è Column Generic Romance di Jun Mayozuki, autrice che io ho amato tantissimo come dopo la pioggia. Torna sempre per J-pop con questa nuova serie al prezzo di 6,50€ per volume. Ci troviamo a Column, una città che si ispira a Hong Kong, dall'aria molto nostalgica, con alcuni aspetti che ben si prestano a una città quasi futuristica o comunque fantascientifica e seguiamo le vicende di due normalissimi agenti immobiliari che pian piano si conoscono e finiscono per innamorarsi. Non si sa, inizia comunque a nascere qualcosa di sentimentale fra i due. Quindi sicuramente se vi piace il genere commedia romantica da tenere d'occhio, ma non solo, non è soltanto un fumetto diciamo sentimentale e romantico, perché come vi dicevo l'atmosfera nostalgica e un po' tecnologica, un po' trasandata, decadente della città, ci fa intuire che forse si cieli qualcosa di più. Ovviamente non aggiungo altro anche perché vedremo con i prossimi numeri. Io ho amato questo primo innanzitutto per i disegni molto fini ed eleganti, a me piace tantissimo il tratto di Jun Mayozuki. L'atmosfera poi nostalgica della città, una città come vi dicevo quasi decadente in cui tutte le nuove attività faticano a decollare perché la gente si trasferisce in questo posto proprio per assaporare la nostalgia, il posto vecchio eccetera. Quindi non so, io sono rimasta affascinata. Anche l'aspetto diciamo sentimentale è trattato comunque con molta delicatezza e non lo so, sono rimasta proprio presa. Poi arriviamo a questo finale che ti lascia veramente a bocca aperta e dici ma che cosa ho letto? E noi siamo qua che attendiamo pazientemente l'uscita del secondo per capire che cosa effettivamente abbiamo letto. Queste erano quindi le ultime serie manga che sto attualmente seguendo, i fumetti usciti nell'ultimo periodo che ho intenzione di continuare ma sono molto curiosa di sapere cosa state seguendo voi se seguite alcune delle serie che ho citato oppure se state seguendo degli altri fumetti che non ho elencato. magari mi sono sfuggiti, magari non ero particolarmente curiosa ma se volete consigliarmi qualche titolo mi raccomando vi aspetto qua sotto nei commenti. Spero che il video vi abbia tenuto un po' di compagnia e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!